E ciao a tutti e benvenuti in questa seconda parte di Angry Shark Oggi cerchiamo di salire di nuovo di livello di... E l'ho già salito però si era introdotta l'aria di stazione Allora ho deciso di dividerla in due parti Genius Ok Si carichi Grazie Genius Ovviamente non c'è più questo perché Andiamo a aspettare 12 ore Come avete visto anche nello scorso episodio Ok Dopo ho impegnato a prendere questo gruppo di pesci E il dorado vai 240 punti Credo che sia Allora che... Cosa? Fischio ma quando è che mi fai salire di due? Spiegami eh No ma per curiosità guarda Per curiosità Medio fuoche 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 Mangia Bello Ok Oh perché non cambia più? Ecco Oh Oh Ancora il dorato E che poi Finalmente A livello di Ci prendiamo un altro poco di soldi Aia Posso anche morire Allora ci abbandoniamo Abbandono Grazie per il record Poi anche Poi anche ecco E lo 10 No grazie Perché non me lo sblocca Dove arrivare a livello 10 e finire pure il livello 10 vabbè se lo dici tu che palle però perchè pure le finali veloci da sbloccare come fare finali veloci no che era molto più semplice grazie ragazzi scrivetemi nei commenti il vostro squalo preferito che tra poco vi farò vedere tra tutti questi che ci sono qua scegliete il vostro squalo preferito di nuovo che ma lo mangi non ti posso mangiare però tra poco vi mangio e mi manca no mi ha preso mangio qualcosa prima che muore mannaggia la miseria ok aia questa cosa non la potrò mai prendere infatti non ho mai abbastanza sprint quando è che finirò eh sarà un anno e voglio dire che vi risparmio per salire di livello anzi vi faccio vedere questo ultimo è dorato vi risparmi per fare per salire di livello e poi ci vediamo a dopo ragazzi ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta compriamolo oh mio dio ragazzi questo 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 c'è questo c'è questo e poi si sbloccheranno altri fossili poi ci sono questo 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 e basta scegliete il vostro preferito io direi che questo video può finire quattro nudi quattro nudi e direi di farci due due partite con questo solo ok troviamo questo nuovo squalo ah ahia ahia oh posso mangiare ahia e ahia e ahia mannaggia la miseria e mangelo vediamo se questo è uno squalo abbastanza potente credo di sì riesco a buttare giù e che l'ho ucciso godo aia no ah è godo sono salito pure di livello quindi saliamo di livello 3 con questo squalo e poi ci possiamo anche salutare pure tra poco arriviamo a eh ahia me lo posso mangiare no non ancora che po' ahia 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 grazie grazie ok aia ahia non è che si sgonfia godo quando siamo oh aia sette minuti aia 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 siamo tornati ok avevo messo in pausa perché era arrivato qualcuno ed erano dei miei parenti a salutarmi alcuni che venivano da Roma ok mangio raga raga però quando vedete i miei video scrivetevi anche perché vedo che fanno servizio magari ma quelle servizio potevano essere anche iscritti no? si potevano anche iscrivere ok beh ovviamente sono morto ok 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 non so non so prima parte non so chi è che ha lasciato il dislike però credo esistit un'altra parte non so non so se non parlo però raga ditemi il prossimo episodio se quando se non lo vogliamo fare con uno degli scuole speciali quando arriviamo a livello 10 con questo grazie mi arrivano 120 messaggi soltanto da quel gruppo grazie questo video lo pubblico di sicuro di giovedì quindi lo dovrete vedere il giorno dopo ok sono non sto per sottotitoli non ha passato ok se completiamo le missioni che ci danno ci danno i soldi sopravvivi 6 minuti fatta già adesso proviamo 6 minuti insieme ok quindi dobbiamo trovare 16 minuti ok mannaggia amore ok come ho detto arriviamo fino a 16 minuti e in 16 minuti riusciremo a salire almeno a livello 6 7 saluta grazie mannaggia sti così no andrò a vedere si è sbloccato il fatto del tesoro e io andrò a vedere si è sbloccato il fatto del tesoro di lì di là nella terra del primo lo scuola ma sono scemo ma sono scemo sono scemo mi so non possiamo ancora sopravvivere 16 minuti no ci sono sbloccato i soldi no c'è questo qui si blocca ci sta regolamente stilo scuola elettrico no no non so dove troppo io direi che questo video può finire qui se non mi siete iscrivetevi lasciate like guardate un video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao